buongiorno a tutto il canale ecco un nuovo video oggi vi farò vedere alcune alcune cose che ho preso per la caravan e per il campeggio e allora ecco il pacco allora per prima cosa ho comprato la presa esterna della 220 fatta in questo modo ad elle così il cavo scende giù invece prima avevo la presa lunga e era più scomoda e più ingombrante allo stesso tempo dietro ho subito una presa per la 220 civile ho comprato questa prolunga così connetto questa qui ho subito la corrente esterna invece prima non avevo la possibilità e dovevo collegare dalla spina interna passare fuori era più scomodo invece in questo modo ho subito la corrente a disposizione quando apre il tendalino fuori perché sto in campeggio è molto più comodo inoltre occupa pure meno spazio e queste sono due acquisti importanti poi in base all'esperienza che uno fa capisce quello che deve comprare in questo caso penso che questo sia un buon acquisto e lo consiglio allora poi purtroppo succedono anche gli incidenti ho preso un ramo con la roulotte uscendo da casa e ho rotto il fanalino l'ingombro laterale e ho comprato il fanalino l'ingombro lo dovrò sostituire visto che c'ero ne ho presi due quindi monterò questi due fanalini l'ingombro laterali e questo poi ho preso anche un'altra cosa sempre per migliorare il discorso della anche del viaggio perché ho notato l'estate scorsa accendendo tutte le luci della macchina il condizionatore tutti quindi anche i fanalini l'ingombro della roulotte anteriori posteriori laterali più il frigo 12 volte per tenere le cose al fresco cioè la macchina faceva quando mi fermavo al minimo tentava a scendere di giri quindi faceva uno sforzo grande quindi prima cosa sto sostituendo tutte le lampadine sia della macchina che della roulotte esterne d'ingombro e quelle di posizione le metto tutte le metterò tutte led ho già iniziato a fare questo lavoro altro accorgimento non accendere il frigo a 12 volt ma viaggiare con un frigo portatile a 12 volt appena questo l'abbiamo fatto con i punti del supermercato siccome la mia macchina ha anche un accendisicari la presa accendisicari dietro al cofano ho preso questo frigo con accendisicari quindi lo metterò dentro la macchina il cavo è lungo adesso non lo faccio vedere tutto quindi me lo porterò dentro la macchina e mi sarà utile anche per gli spostamenti senza roulotte se dovrò andare al mare in piscina eccetera poi questo frigo alla doppia funzione quindi lo puoi utilizzare anche per mantenere a caldo a questo la doppia modalità hot cool è anche capiente perché un 25 e da 25 allora adesso vi faccio vedere l'interno allora anche la ventolina che butta fuori l'aria alla parte sia per refrigerare che per scaldare infatti il coperchio abbastanza pesante vi faccio vedere l'interno abbastanza profondo quindi si possono mettere tante cose ecco qua ma rileggo le caratteristiche allora pratico 25 12 volt alto isolamento termico doppia funzione caldo freddo utilizzabile in auto questo volendo si può comprare un adattatore un trasformatore da 12 volta 220 quindi attacchi questo qui al trasformatore io già ce l'ho e lo puoi utilizzare anche a 220 come frigo esterno è molto utile e va bene queste erano alcune cose che vi volevo dire per questo video è tutto iscrivetevi al canale seguitemi per i prossimi video che alcune cose alcuni lavori da fare prossimamente eviterò aggiornati a presto ciao a tutti